Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove per un camione in fiamme al chilometro 238 c'è il tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna. Presenza di fumo tra Pian del Voglio e Roncobilaccio. Si segnalano rallentamenti per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Spostandoci sulla 15 in direzione Parma, 4 km di coda per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto. Sulla statale Trebistiverina a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve Santo Stefano chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!